benvenuti su youtube sul nostro canale da parte di tecno user questo video vi farò vedere come convertire proprio ecco uno in file video vi consiglio un software gratuito che si chiama free avv video convert perché oltre ad essere gratuito è davvero funzionale andiamo ad eseguire software free studio 2013 allora basta semplicemente aggiungere la sorgente del file che la sorgente del file che non vogliamo convertire quindi un file video per forza di cose lui vede davvero qualsiasi tipo di file a questo software potete spaziare dalle mp4 avi dvx come più più volete selezioniamo il file sorgente che uscirà qui convertirà su questo riguadro non solo se volete convertire più file senza stare dietro al software non è un problema voi ne aggiungete altri andate a selezionare uscirà qui un'altra voce e non ci sarà nessun problema quando avvierete la conversione lui li convertirà tutti quanti come file singoli non ci saranno problemi potete tranquillamente fare quel che volete fare allora cosa abbiamo più abbiamo la destinazione su cui noi vogliamo salvare il file quindi basta andare qui e selezionare la destinazione del nostro file possiamo selezionare il formato in cui lo vogliamo convertire possiamo convertirlo in avi in mp4 in mkv insomma in flv persino cioè possiamo davvero spaziare su come vogliamo convertire il nostro file oltre a ciò possiamo selezionare la qualità il formato del nostro file ovvero vogliamo che sia l'originale qualità vogliamo che sia in full hd quindi in 1080p o in 780p vogliamo che sia compatibile per un formato per apple con l'ipod 4 insomma è davvero davvero completo ecco anche i nepal dvd cioè cosa che ormai non serve più a nessuno ha davvero pochi però c'è anche questa conversione in ntsc quindi straordinario questo software perché per di più è gratuito opzioni opzioni niente di che a qua c'è l'accelerazione della codifica video con la scheda video praticamente possiamo anche disabilitarlo non è un problema possiamo scegliere la nostra ecco il nostro tema personalmente preferisco quello stanta non mi sembra più più professionale poi poi ognuno va a propri gusti e niente faccio ci ho fatto basta semplicemente selezionare converti inizierà ecco la conversione del nostro video e in questo diciamo che se il video è come questo qui che durò due minuti qualcosa farà subito come potete vedere ma chiaramente dipende dalla durata del vostro video certo c'è da dire con software molto veloce e che scusate non richiede risorse esagerate dal nostro computer basta andare a vedere su gestione attività prestazioni come potete vedere cpu la cpu viene sia utilizzata ma siamo sul 60 50 per cento di utilizzo nulla di che la memoria RAM meno ancora vabbè quella si sa questi software di solito non utilizzano tanto la RAM ma più che altro il processore ma rispetto a Movemaker è davvero molto meno esigente questo software comunque questo è tutto se vi piaciuto il video condividete cliccate mi piace soprattutto iscrivetevi al canale guida completa qui sotto dove troverete il link dell'articolo sul nostro blog e anche il download del software questo è tutto ci becchiamo al prossimo video ciao ragazzi